Ingegner Livello, qual è la situazione per quanto riguarda l'acqua in provincia di Pescara e anche nelle zone che voi gestite nel Terramano e nel Chietino? Dopo la gelata del 7, diciamo sabato 7 e domenica 8 siamo intervenuti in forza sul territorio, ci sono state queste gelate che hanno creato rotture di contatori, anche di tubazioni e quindi si sono creati i sovraconsumi perché chiaramente il tempo di intervenire non è stato immediato perché c'è stata anche difficoltà di poter accedere sulle vie stradali, parliamo anche di comuni montani dove c'è stato un metro di neve quindi ci hanno dato un grosso aiuto anche i comuni con mezzi spallaneve eccetera e quindi questi sovraconsumi hanno creato un abbassamento dei livelli litici di tutti i serbatoi e stiamo cercando di compensare con chiusure programmate, stiamo avvisando i comuni, facciamo gli avvisi anche sul sito, quindi la popolazione è un po' avvisata nel frattempo stiamo intervenendo in forza sul territorio per sostituire il più velocemente possibile tutti questi contatori rotti perché sono questi che stanno creando questi sovraconsumi Anche l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica ha creato problemi? Sì, diciamo che c'è stato un problema grosso su San Giovanni Tiatino, il sollevamento di Dragonara che alimenta la parte alta di San Giovanni e Torre Vecchia e questo ci ha creato una disfunzione elettrica Enel che per fortuna abbiamo installato un gruppo elettrogeno ausiliario con 24 ore di anticipo rispetto al ripristino dell'energia e siamo riusciti a far ripartire le pompe e quindi a limitare un po' i danni La normalità la raggiungeremo secondo me dopo l'ulteriore eventuale gelata che si dovesse presentare ma noi comunque siamo prontissimi per fronteggiare la cosa Il problema grosso è la viabilità, se si creano problemi di viabilità su quello non possiamo fare nulla conferma Grazie a tutti